Di fronte all'imponenza di questo platano secolare che da 300 anni cresce nel cuore di Padova, non ti immagini la fragilità che nasconde. Maestoso e nobile, continua a vivere nel cortile del Palazzo dei Conti Papafava, ma un fungo sta progressivamente mangiando la sua parte interna, una carie che ha reso critiche le sue condizioni di stabilità. Per questo la famiglia Papafava, a suo malgrado, ha deciso di intervenire con una potatura significativa. La perizia parla di abbattimento. Io di fronte al dolore dell'abbattimento, perché a questa pianta siamo affezionati in modo totale in famiglia, abbiamo fatto di tutto per evitare la cosa e con la sovrintendenza abbiamo concordato la potatura rilevante. Un intervento che ha scatenato l'ira di una schiera di professionisti padovani in sorti a difesa del grande platano e disposti anche a consulenze gratuite. Tutti si schierano per salvare questa pianta, alta oggi una trentina di metri, prima della potatura arrivava a 50. Con la sovrintendenza avevamo concordato di mettere dei tiranti, ma ciò non è stato possibile, ci spiega Alberto Papafava, così le ragioni della sicurezza hanno prevalso su quelle del cuore. Mi riconosco pienamente che l'intervento nostro è superiore a quello concesso dalla sovrintendenza, ma ci siamo resi conto che il pericolo è la sicurezza di vite umane intorno al platano che purtroppo, essendo bellissimo, al dolore a tutti, abbiamo proceduto assumendocene le relative responsabilità.